Benvenuti in questo video carissimi amici e amiche, che sarà un video spesa anche se sono nella camera esoterica, diciamo così. Però prima di mostrarvi la spesa, l'ottima spesa che ho fatto all'equ discount, che con 100 euro ho preso tantissima roba, bisogna anche saperla prendere, non basta andare al discount modestamente, quindi niente, oggi sono un po' incazzata. Sono incazzata perché dal giorno di Pasquetta, che ho come vi ho detto la faringite, ancora adesso non mi sento benissimo, e niente, la febbre non ce l'ho più, però la notte, mal di testa, mal di gola, e niente, pure la debolezza incredibile, sono dovuto uscire lo stesso dopo una settimana perché serviva della spesa, a volte parlo i miei familiari, ma non sanno prendere alcune cose che servono, perché io sì, faccio una lista, però poi quando sono sul posto, e ci sono anche altre cosine magari che vedo lì per lì, offerte o altro, e prendo, sono cose utili, oppure magari capisco una cosa per un'altra, per cui magari succede che quello di cui avevo bisogno, ecco, l'altra volta che sono andati loro, era i succhi di frutta, succhi di frutta che è delle arance che stando insomma male, con raffreddore e altro, faringite, il cazzo che è, e dico il cazzo che è, sapete perché? Perché potrebbe essere anche una forma di covid, io ho fatto il test all'inizio, quando stavo male, ed è il risultato negativo, quindi sembrerebbe che non ce l'ho, però sta girando, sta girando e quindi, e qui mi fermo, qui mi fermo che è meglio, qui mi fermo che è meglio, guardate, quindi sta girando, quindi potrebbe essere, sapete che a volte magari, solo che adesso non mi va di sprecare un altro coso per vedere se ce l'ho o no, che ripeto, l'ho già fatto, l'ho già fatto ed è risultato negativo, quindi non vedo perché devo starlo a fare di nuovo, e niente, quindi, niente, ho fatto tanto quest'inverno per stare bella tranquilla in casa, eccetera, purtroppo l'ho preso lo stesso, pur non uscendo, perché, chiaro, avendo familiari che praticano luoghi molto affollati, è chiaro che l'ho preso lo stesso, comunque, vabbè, una batosta un inverno, una batosta un altro, una batosta un altro, unito a una malattia di base, si va avanti, per fortuna non lavoro, quindi anche se sto male, posso stare a casa e fare quello che riesco a fare, un po' mi siedo, un po' sto in piedi, e qualcuno mi ha detto, ma non prendere tanta tachipirina che indebolisce, sì, ma io l'aspirina non la posso prendere, non la posso prendere se non rischio un'emorragia intestinale, se prendo l'aspirina con la malattia con l'intestino non la posso prendere, neanche l'ibuprofeno non lo posso prendere, ognuno sa i cazzi suoi, no? E niente, quindi, io poi sono seguita dai dottori, mi dicono loro quello che devo prendere, sto continuando a prendere il cortisone, che invece mi fa benissimo, sia la malattia autoimmune, sia questa specie di laringite di merda, e questi virus batteri di merda che sono creati apposta, secondo me, per distruggere la popolazione, quindi quelli più anziani, o anche i giovani che hanno problemi di salute, quelli deboli, è tutto fatto come progetto per rimanere di meno, per rimanere di meno sul pianeta, no? Ecco, e anche cambiamenti climatici, eccetera, a loro cosa gliene importa? Meno si distruggono le persone, distruggono l'ambiente, ecco, perciò sono incazzata, perciò sono incazzata, e poi per quanto riguarda le pensioni c'è proprio un progetto a livello europeo, proprio di sterminio degli anziani, mandandoli a lavorare stanchi, malati, eccetera, e mi posso permettere di stare a casa, oppure se andassi sul lavoro mi vedrebbero ridotta come sto, mi manderebbero a casa, ma mi sono dovuta prendere tanti di quelle offese e insulti, parassieta statale, una donna di 62 anni che gli tocca sentire queste cose qua, ma non solo a me, a tutti quelli, no? Allora, se volevate essere statali, facevate il concorso anche voi, o ancora meglio, vi laureavate, perché c'è gente anche non laureata che mi dice su, vi laureavate, vi facevate un culo così, facevate un culo così come me lo so fatto io, con libri e libri e libri, va bene, poi andavate a insegnare con lo stipendio da fame, e poi con una malattia autoimmune di base, e poi ne riparlavamo, scusate, è questo brutto video. Ah, ne approfitto, visto che sono incazzata oggi, per dire che non è neanche giusto che le visualizzazioni su YouTube siano diminuite così tanto, non solo a me, non tanto a me, quanto a grandissimi YouTuber che non cito, che poverini non dicono nulla, però hanno ragione, ogni tanto dicono qualcosa così, sono un po' abiliti, allora chi è iscritto a TikTok mi fa il favore, mi fa il favore, il benedetto favore, o maledetto, come cazzo volete, di levarvi dai miei canali e di non sentirmi più, di non guardarmi più. Chi di voi è iscritto a TikTok, per favore, si disiscriva ai miei canali e non mi guardi, va bene? Non mi guardi perché non voglio essere guardata da persone che sono iscritte a TikTok. Allora, detto questo, non so questo file, sono sì, guardate, ormai non ho più niente da perdere. E cosa volevo dire? Addirittura un deficiente su Facebook mi ha detto, ah, i problemi di salute, sei malata? Non ti preoccupare, stai a casa fino a 71 anni, tanto lavoriamo noi per te, ma che cazzo è sto fatto che lavorate voi per me? Chi cazzo l'ha detto che lavorate voi per me? Poi prenderai la pensione sociale, dunque, anzitutto la pensione sociale, per fortuna non la prendo, non la prendo perché non dico che sono benestante, ma non ho un reddito così basso, va bene? Ho qualche piccola rendita per cui non ho bisogno che questo pezzo di merda lavori per me, neanche pezzi di merda che mi dicono così. Quindi li maledico, li mando a fanculo e sono dei grandissimi, proprio loro non li chiamere neanche uomini, fanno schifo, fanno schifo. Non so perché mi sto cercando così oggi, non lo so. E pensare che dovevo far vedere la spesa, forse sarà meglio smettere. Sarà meglio smettere perché ne avrei ancora da dire. Sarà meglio smettere. E niente, tutto questo perché ormai in Italia è nata la guerra tra poveri, va bene? È nata la guerra tra poveri. E così povera non sono, però vedo tanti poveretti, qui è meglio che mi fermo, che veramente hanno una dignità incredibile e vengono anche offesi insultati. Vedo delle cose veramente. Quando invece dovremmo prendercela col sistema a livello europeo, con l'euro e tutto quanto, e Bruxelles che c'ha impoverito tutti quanti, invece di prendercela tra di noi italiani. Purtroppo, come le galline, no? Dico sempre, di Renzo, che si beccavano, i capponi di Renzo che si beccavano mentre lui andava dalla secca a Carpugli, che si beccavano fra di loro. Così anche gli italiani che si beccano fra di loro. Mi dispiace vedere l'Italia ridotta in questa maniera. A volte cerco di non pensarci. Sono 4-5 giorni che non accendo la televisione, però capita, le notizie capitano anche sui social, le notizie ci sono. A parte Facebook, c'è anche Renzo, altro che mi dà notizie. Sono notizie veramente brutte, però il karma ha voluto che nascesse in quest'epoca. I migliori e i più fortunati sono stati, per dire, mio padre che è nato nel 1930 e mia mamma nel 1939. Loro adesso non ci sono più sul piano terreno. Ma i più fortunati sono stati loro, perché è vero, hanno attraversato la seconda guerra mondiale, ma loro erano bimbi. Nel 1945 c'è stata la liberazione, quindi loro da bimbi hanno dei ricordi che mi raccontavano quello che succedeva. Poi dopo hanno assistito al boom economico degli anni 50-60 e poi loro sono morti una decina di anni fa, 10-15 anni fa, quando la situazione non era così brutta. E niente, quindi uno può anche, non so, pare come lo struzzo, mettere la testa nella sabbia e non guardare quello che succede attorno. Si può anche fare così, no? Si può fare così. E però l'eco di quello che sta succedendo arriva, arriva quando usciamo della strada, arriva quando andiamo a fare la spesa, vediamo i visi delle persone tristi, io poi capto molto le energie degli altri e quindi è chiaro che. Ora guardate, ho pubblicato sul canale esoterico, sono molto contenta per gli abbonati che mi seguono, ne ho 18-20, perché poi alcuni si ritirano, ritirano l'abbonamento, poi lo rifanno, ma questo non ci mancherebbe. Quindi sono molto contenta. Però mi dispiace di dover divulgare dei contenuti che loro apprezzano tantissimo, devo dire tantissimo, a poche persone, a una ventina di persone, quando io avrei voluto invece poterli divulgare a tante persone. Non per il fine economico, no, assolutamente, a me tanto si prende poco o nulla su YouTube, non è quello. E che mi dispiace non essere stata libera di poter fare i video che volevo sul canale esoterico. Adesso sono libera, ma sono libera di farli con quelle 20 persone basta, ecco. E mi fa una rabbia incredibile che abbiano delizio e preso in giro cose che per me invece sono importanti. E vabbè, comunque questo lasciamo perdere. Sarà meglio che vi mostri la spesa che ho fatto. Andiamo di là. Allora, amici e amiche, ho messo tutto qui sopra. L'ho levato dalle buste e l'ho messo qui. Vedete? Per 104 euro. Problemi a inquadrare, scusate. Mettiamolo qui sopra. Vediamo un po' se si riesce a inquadrare un po' meglio. Cade tutto, cade tutto. Allora, vedete? Per 104 euro, ora si vede, ho preso tantissime cosine. Guardate quanta roba. Guardate qua. Guardate quanta roba. Adesso mi mostrerò magari qualcosa. Ecco tutta questa roba qui. Allora, anzitutto ho preso la mortadella perché l'altro giorno ho comprato in una piadineria del mio paese delle piadine con la mortadella, granella di pistacchio e stracciatella. E quindi ho deciso poi di rifarle io. Ne ho presi due. Tra l'altro sarà sotto. Vabbè, comunque. E quindi voglio rifare io queste piadine. Poi ho preso il salmone affumicato, acqua minerale frizzante e poi questo qui che ve l'ho fatto vedere già altre volte con la panna e ci faccio poi le pennette integrali o meno. Poi arance. Arance che ne ho proprio bisogno. Salmone 2. Salmone 2. E poi ho preso appunto questa qui che è buonissima, questa piadina romagnola IGP alla riminese. Ottima. Ho preso le due confezioni, poi dei panini. Poi ho preso le cime di rapa, come spesso faccio. le cime di rapa, solo che ho dimenticato di comprare le orecchiette. Vabbè. E allora dove posso mettere qui? Poi ho preso i waffles. Io ho anche la macchina per farli, sapete? Però quei sono già pronti, costano un euro e sono buonissimi. Io ho dimenticato, vedete, di la caffettiera. In questa vecchia caffettiera il caffè viene buonissimo. Il caffè che ho fatto ora nel soggiorno ho dimenticato poi di asciugarla. Vabbè. Poi ho preso delle cosine sfiziose tipo brunch serale. Vedete? Queste pizzettine margherita, poi altre cosine che scoverò qua e là. Poi ho preso questo qui che veniva in offerta a 4 euro, una crema di liquore. Non l'ho ancora mai assaggiata, ma secondo me è ottima. Ecco qui. Poi ho preso, anzi, mia figlia ha preso questo. Sarà ottimo, secondo me. Tesori d'Oriente Persiam Dream, poi vi farò sapere. Poi ho preso questa qui, la Luganega, due confezioni ed è ottima. È la Luganega di suino al peperoncino. Poi ho preso, c'era in offerta, 1,70 euro. Questi qui, i baiocchi al pistacchio. Io adoro il pistacchio, eh. Non so se ve l'ho detto. Poi un po' di biscotti perché non c'era neanche un po' di biscotti. Questi ventaglini. Gli amaretti. Questi qui col caffè sono ottimi. Poi ho preso questa colomba Baudi in offerta. Ora il prezzo, questa senza candidi, il prezzo vero e proprio, 2 euro e qualcosa mi pare. Mi pare 2 euro e qualcosa poi guarderò sul, o forse un po' di più, poi guarderò sul sullo scontrino. Poi questo qua, che ne ho proprio bisogno. Questo qui è buonissimo. Scusate. Cerco di inquadrarlo un po' meglio. Questo A più C più E rosso. Poi quest'altro, quest'altro al mirtillo. Al mirtillo che è buonissimo. Poi ho preso questo qui, l'actoflorene, perché lo sapete, i fermenti lattici ne ho bisogno. Faccio fuori una scatola al mese, questo qui, l'actoflorene plus. Poi ho preso questo qua, che fa sempre comodo il pan bauletto bianco, del mulino bianco. Un caffè economico di questa marca, che è buonissimo. La crema del caffè, gusto oro, per la moca, che è buonissimo. Poi il bicarbonato. Adesso vi farò ridere. A parte gli usi di cucina, io lo uso per la cistite, per farmi dei bidet per la cistite. Rimedio della nonna. L'ho trovato su internet e funziona. Per la cistite è ottimo. Sciolto nell'acqua del bidet e poi vabbè, per tutti gli usi di cucina. Mi viene da ridere, ma vabbè. Di questi tempi c'è poco da ridere. Poi c'erano tante marmellate in offerta. Ho preso questa alle arance, perché ho voglia di arancia. Queste qui. Poi ho preso questo qua per fare i dolci. La farina 00, ideale per dolci. Era un po'. Questo qui per i miei parenti. Io preferisco, come sapete, questo ad esempio. Preferisco questo. Questo qui. E poi ho preso due cortesse. Due birre cortesse. Poi ho preso pomidorini, che mi servono che li faccio col tonno e gli spaghetti. Poi ho preso questo qui. Un euro limone e menta, che buonissimo. Poi ho preso questi fake after eight. Mi dispiace dire fake. Sono buonissimi. Sono proprio come gli after eight. Questi mind things. Worker. Sono simili. Ecco, voglio dire. Non voglio dire fake, perché sono buonissimi. Sono uguali, identici agli after eight. Per me. Scusate, vabbè. Sono andati a terra. Di recupero. Allora, sono, ripeto, sono uguali agli after eight. Agli after eight di, ora non mi ricordo che marca, comunque. Vabbè. Poi, perdonate, vedete, sono ancora stordita da questa specie di faringite, raffreddura influenza. La panna da cucina. Questi qui. Questi ciococococcus alla vanilla. Questi altri. Così, ora per un po' non esco, eh. Per un po' adesso non esco, finché non mi rimetto del tutto. Questi scioguette. Questi qua. Poi, che altro ho preso? Perché poi alla fine esce fuori la roba, eh. Ah, questo qui? Vabbè. Comunque poi ci sarà altra roba che non vi ho mostrato. Questo colgate, che sia antitartaro che whitening. Poi ci saranno altre cosine. Ad esempio, mi ricordo di aver preso dei, questi qui per la spazzatura. Questi qui. Mi ricordo di aver preso altre cosine da surgelare. Ah, ecco, questi qui, vedete? Qui crolla tutto. Questi qui. Allora, questi salatini. Sempre per fare un brunch serale. Questi salatini righi. Non si riesce a inquadrare come si deve, comunque. Ecco, mignon misti sono buonissimi. Poi, vabbè, la cartigenica. Cioè, vi ho reso l'idea di questa spesa, la solita. Poi, senz'altro, avevo dimenticato qualcosa. Va bene, comunque, sapete che io poi alla fine, alla fine, dimentico sempre qualcosa. Poi ho visto che c'è un'offerta. Questa qui, per cui mi ha andato i punti. Mi ha andato i punti. C'è un'offerta di robe sportive. Io ho dovuto interrompere la mia attività fisica, purtroppo, perché sono un po' debole in questo periodo. Allora, ecco per il sociale. Allora, si può avere una borsa, la borsa portascarpe, la borraccia, il telo palestra. Ecco, mi attira questo telo qui, perché queste cosine ce l'ho. Invece un telo in più fa sempre comodo. Va bene, allora io vi saluto, vi ringrazio e ciao ciao. Allora, stavo mettendo via tutto. È rimasta soltanto poca roba da mettere via. E guardate, la mia attenzione è stata tratta da questo scontrino. Pensate un po'. Ottimo, no? Dal 2 al 7 maggio, su una spesa minima di 40 euro, avrò 10 euro di buono sconto. Ottimo. Ottimo. buono. E invece, praticamente, questo buono è stato consegnato dal 19 al 29 aprile. Infatti, oggi è 19. Benissimo, benissimo. Ok, quindi davvero conveniente, insomma, meno male che esistono i discount. Cosa devo dirvi? Ciao di nuovo.